In questo corso impareremo a creare delle app senza conoscere una linea di codice. Lo faremo compilando delle semplici tabelle. La grafica sarà spettacolare, l'interfaccia per creare le applicazioni sarà veramente molto semplice. Per creare un'applicazione ci vorranno pochissimi minuti. Come ho detto prima, non sarà necessario conoscere il codice, ma la cosa più importante lo faremo senza spendere un euro. A chi è rivolto questo corso? Allora, questo corso è stato pensato proprio per te, che vuoi sviluppare e far conoscere il tuo progetto. Che tu abbia un negozio fisico, un negozio online, che tu sia uno youtuber, un instagramer, un tiktoker oppure un blogger. Che tu appartenga a una comunità, che tu sia un manager oppure che tu sia un appassionato di qualsiasi cosa. Questo è proprio il tuo corso. Cosa sarai in grado di fare alla fine di questo corso? Sarai in grado di costruire un'app come quella di Laura. Laura è un host, ha un appartamento all'Azzise ed era stanca di pagare il 20% di commissione a booking. Cosa ha deciso di fare? Ha deciso di costruire un'applicazione. Un'applicazione con la quale raccoglie le prenotazioni e si tiene in contatto con i suoi clienti. Come è strutturata questa applicazione? C'è una pagina iniziale dove Laura presenta la sua casa. Ha inserito delle foto, un indirizzo, una descrizione della sua casa e ha inserito i propri contatti e anche la mappa. Una seconda tab raccoglie le prenotazioni, si tiene in contatto con gli ospiti e anche perfino una chat. Quanto ha impiegato Laura a costruire questa applicazione? Solo 30 minuti, senza conoscere una riga di codice. Oggi Laura è contenta, gestisce il suo business tramite questa applicazione e ha finalmente abbonato Booking.com che gli rubava, tra virgolette, il 20% del suo giro d'affari.